Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa quinta domenica di Quaresima, la liturgia proclama il Vangelo in cui San Giovanni riferisce un episodio avvenuto negli ultimi giorni della vita di Cristo, poco prima della Passione. Mentre Gesù si trovava a Gerusalemme per la festa di Pasqua, alcuni greci, incuriositi da quante egli ancora andava compiendo, esprimono il desiderio di vederlo. Avvicinarsi sia all'Apostolo Filippo che gli dicono, vogliamo vedere Gesù. Vogliamo vedere Gesù. Ricordiamo questo desiderio. Vogliamo vedere Gesù. Filippo ne parla Andrea e poi insieme lo riferiscono al Maestro. Nella richiesta di quei greci possiamo scorgere la domanda che tanti uomini e donne di ogni luogo e di ogni tempo rivolgono alla Chiesa e anche a ciascuno di noi. Vogliamo vedere Gesù. E come risponde Gesù a quella richiesta? In un modo che fa pensare. Dice così. E' venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato. Se il chicchio di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Queste parole sembra che non rispondano alla domanda posta da quei greci. In realtà essi vanno oltre. Gesù infatti rivela che Lui, per ogni uomo che lo vuole cercare, è il seme nascosto pronto a morire per dare molto frutto. Come a dire, se volete conoscermi, se volete capirmi, guardate il chicco di grano che muore nel terreno, cioè guardate la croce. Viene da pensare al segno della croce, che è diventato nei secoli l'emblema per eccellenza dei cristiani, che anche oggi vuole vedere Gesù, magari provenendo da paesi e culture dove il cristianessimo è poco conosciuto. Che cosa vede prima di tutto? Qual è il segno più comune che incontra? Il croce fisso, la croce. Nelle chiese, nelle casse dei cristiani, anche portato sul proprio corpo, l'importante è che il segno sia coerente con il Vangelo. La croce non può che esprimere amore, servizio, dono di sé senza riserve. Solo essa, solo così, essa è veramente l'albero della vita, della vita sovrabbondante. Anche oggi tante persone, spesso senza dirlo, in modo implicito, vorrebbero vedere Gesù, incontrarlo, conoscerlo. Da qui si comprende la grande responsabilità di noi cristiani e delle nostre comunità. Anche noi dobbiamo rispondere con la testimonianza di una vita che si dona nel servizio, di una vita che prenda su di sé lo stile di Dio, vicinanza, compassione, tenerezza, e si dona nel servizio. Si tratta di seminare semi di amore, non con parole che volano via, ma con esempi concreti, semplici, coraggiosi. Non con condanne teoriche, ma con gesti di amore. Allora il Signore, con la sua grazia, ci fa portare frutto, anche quando il terreno è arido, a causa di incomprensioni, difficoltà, o persecuzioni, o pretesse di legalismi o moralismi clericali. Questo è terreno arido. Proprio allora, nella prova e nella solitudine, mentre il seme muore, è il momento in cui la vita germoglia, per produrre frutti maturi a suo tempo. È in questo intreccio di morte e di vita che possiamo sperimentare la gioia e la vera fecondità dell'amore, che sempre, ripeto, si dà nello stile di Dio, vicinanza, compassione, tenerezza. La Vergine Maria ci aiuti a seguire Gesù, a camminare forti e lieti sulla strada del servizio, affinché l'amore di Cristo risplenda in ogni nostro atteggiamento e diventi sempre più lo stile della nostra vita quotidiana. Angelus Domini, Nunsiave di Maria, Conceglie del Spirito Santo, Ave Maria, la glacia plena, Dominus Tecum, benedicta tu, Mulieribus, e benedicta fruttopente tu, Iesu. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Eccentilla Domini, Fia di me, secundum verbum Tum, Ave Maria, la glacia plena, Dominus Tecum, benedicta tu, Mulieribus, e benedicta fruttopente tu, Iesu. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. e benedicta tu, Mulieribus, e benedicta fruttopente tu, Iesu. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis, santa Dei Genitis, Un dini e ficiamur promissionibus Christi. Grazie an tua, in cui sumu Domine, mentibus nostri sinfunde. Un chiange l'Annunziante, Cristi e Affilii tua in impedine coniovim, per passione mea ius ad crucem, a rassurrexiongn hats gloriam praducamur, per Christum Dominum nostum, Amen. Glorie a Pati et Figliot e Spiritui Santo. Sicuterat in principio et nunc et semper, et in seculas seculorum. Amen. Glorie a Pati et Figliot e Spiritui Santo. Sicuterat in principio et nunc et semper, et in seculas seculorum. Amen. Glorie a Pati et Figliot e Spiritui Santo. Sicuterat in principio et nunc et semper, et in seculas seculorum. Amen. profidelibus defuntis requiem eterna donais Domine et lux perpetua luce a teis requiechant in pace am sitnum en Domine benedictum ex hoc noc etus coi in seculum aiuterium nostrum in Omine Domine qui fecit celum et terra benedicta benedicta al vos, Omnipotene Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amén Cari fratelli e sorelle Oggi in Italia si celebra la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie Le mafie sono presenti in varie parti del mondo e sfruttando la pandemia si stanno arricchendo con la corruzione San Giovanni Paolo II denunciò la loro cultura di morte e benedicto XVI le condenò come strade di morte Queste strutture di peccato strutture mafiose contrarie al Vangelo di Cristo scambiano la fede con l'idolatria Oggi facciamo memoria di tutte le vittime e rinnoviamo il nostro impegno contro le mafie Domani ricorre la giornata mondiale dell'acqua che ci invita a riflettere sul valore di questo meraviglioso e insostituibile dono di Dio Per noi credenti Sorella Acqua non è una merce è un simbolo universale ed è fonte di vita e salute troppi fratelli tanti fratelli e sorelle hanno accesso a poca acqua e magari inquinata è necessario assicurare a tutti acqua potabile e servizi igienici ringrazio ringrazio incoraggio quanti con diverse professionalità e responsabilità lavorano per questo scopo così importante e penso per esempio all'università dell'acqua nella mia patria a coloro che lavorano per portarla avanti e per far capire l'importanza dell'acqua grazie tante voi argentini che lavorate in questa università dell'acqua saluto tutti voi che siete collegati tramite media con un ricordo particolare per i malati e le persone sole vi auguro una buona domenica per favore non dimenticatevi di pregare per me un pranzo e arrivederci